Buongiorno Friuli e buon venerdì, venerdì primo luglio e anche quest'oggi noi siamo puntuali come sempre per iniziare assieme questa giornata con la nostra rassegna stampa. Prima di andare però sui quotidiani vediamo cosa ci attende oggi sul fronte meteo. Gli esperti dell'Osmerarpa prevedono per oggi cielo da poco nuvoloso a variabile, con più sole sulla costa. Sui monti saranno probabili locali rovesci o temporali, possibili anche su qualche zona di pianura e sul calcio. Non esclusa la possibilità di qualche isolato temporale più forte, 20 a regime di brezza. Le temperature oggi raggiungeranno i 30-33 gradi in pianura, 27-29 gradi sulla costa. Vediamo anche le previsioni per domani, sabato al mattino, cielo in genere poco nuvoloso. Dal pomeriggio variabilità con possibili locali rovesci o temporali, più probabili sulle prealpi e in Carnia, ma possibili anche in pianura. Tempo più soleggiato sulla costa con brezza, temperature sostanzialmente simili a quelle della giornata di oggi. Vediamo anche le previsioni per domenica, così chiudiamo. Le previsioni per il weekend è una domenica con cielo in prevalenza nuvoloso. Al mattino piogge sparse e qualche isolato rovescio temporalesco. In mattinata inizierà a soffiare bora che in serata potrà anche essere sostenuta sulla costa. Nel pomeriggio sera miglioramento e temperature nella giornata di domenica in decisa diminuzione. Vediamo infatti che le massime toccheranno i 22-25 gradi, quindi anche 5-6 gradi in meno rispetto alla giornata di oggi e di domani. E dopo questa carrellata sulle previsioni del tempo per questo fine settimana cominciamo la nostra rassegna stampa con le prime pagine dei quotidiani nazionali. Andiamo subito sul Corriere della Sera. Vediamo il titolo di apertura. Si parla del Via Libera da parte dell'Unione Europea a uno scudo pubblico per le banche italiane, una garanzia anticrisi. L'Unione Europea ha quindi autorizzato questo scudo pubblico per difendere la liquidità delle banche italiane solvibili. E poi il Tesoro che scende in campo anche su Montepaschi. Il Tesoro potrebbe intervenire senza sacrifici per soci e clienti, ci dice il Corriere della Sera. E poi rimanendo sempre sul Corriere vediamo anche la fotonotizia che ci porta nel Regno Unito. non sarà Boris Johnson, l'ex sindaco di Londra, il nuovo premier. Il fuoco amico ferma Johnson, titola il Corriere. Non sarà lui il leader dei conservatori. L'ex sindaco di Londra, Boris Johnson, fa un passo indietro colpito dal fuoco amico del congiurato Michael Gove, il ministro della Giustizia. Adesso la ministra Teresa May è la favorita nella corsa per il dopo Cameron Johnson che si era schierato durante la campagna elettorale per il referendum, proprio per l'uscita dall'Unione Europea. E ancora vediamo anche la politica italiana in primo piano sul Corriere. Si parla della legge elettorale. Ora è scontro sull'Italicum. I Cinque Stelle dicono non si cambia più. Attacco di Grillo a Renzi. Grillo ha scritto nel suo blog Renzi è un baro. Il Partito Democratico dice siete opportunisti. Scontro tra Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico, ora che anche Renzi ritiene possibile, se non necessario, modificare la nuova legge elettorale. Il fronte favorevole alla modifica del premio di maggioranza comprende, oltre ai cattolici e alla minoranza DEM, anche Forza Italia, Nuovo Centrodestra, Socialisti, IDV, Fratelli d'Italia ed ex Grillini. Fuori dal coro ci sono i Cinque Stelle che bocciano l'intera legge. Ora non si cambia più. Renzi ha paura. La replica del PD, l'abbiamo già letta nel titolo principale. Siete opportunisti. E a proposito di politica, a proposito del duello fra Partito Democratico e Cinque Stelle, andiamo su Repubblica, che oggi apre con i risultati di un sondaggio realizzato da Demos, che ci dice questo. Cinque Stelle sorpasso sul Partito Democratico. Sondaggio Demos al ballottaggio staccherebbero i DEM di quasi dieci punti. Crolla la destra e poi gli italiani difendono l'Unione Europea. Due su tre bocciano la Brexit. si riaccende la battaglia sull'Italicum, come abbiamo visto anche sul Corriere. E poi appunto questa grafica che ci riassume i risultati di questo sondaggio Demos e che ci mostra come rispetto al febbraio del 2016, nel giugno del 2016, la percentuale che al ballottaggio voterebbe Movimento Cinque Stelle, invece che è Partito Democratico, è salita al 54,7% rispetto al 49% del febbraio 2016, segnando quindi il sorpasso sul Partito Democratico. Sempre su Repubblica vediamo a centropagina una notizia di cronaca che ci arriva da Sesto Fiorentino, dove c'è stata la rivolta di molti lavoratori cinesi per i troppi controlli. A Sesto Fiorentino feriti e arresti, troppi controlli. Ecco la foto, la rivolta della Chinatown Toscana. Andiamo sul manifesto adesso, manifesto che mette in primo piano un'altra notizia, un altro naufragio nel canale di Sicilia. Ecco l'imbarcazione affondata ieri, i fantasmi dell'Europa, il titolo scelto dal manifesto, per raccontare appunto quanto accaduto ieri. Dieci morti, tutte donne, oltre 200 i salvati. L'ennesima tragedia di migranti si consuma, mentre dai fondali del canale di Sicilia alla Marina Militare riporta a Galla, il barcone affondato nel 2015. Dalla stiva dell'erelito della più grande strage del Mediterraneo, morirono in 700, i resti di circa 300 persone. La foto che vediamo appunto è proprio dell'erelito di quell'imbarcazione. Chiudiamo il manifesto, andiamo velocemente anche sulla prima pagina di Libero. Ecco il titolo di apertura. La Germania ha il cancro, la diagnosi del fondo monetario, la Deutsche Bank rischia il fallimento ed è il pericolo numero uno per il mondo e non soltanto per l'Unione Europea. Se la Merkel la salva ancora, scusate, stia zitta sulle nostre banche che intanto ottengono un fondo di garanzia da 150 miliardi. Andiamo a vedere anche la prima pagina del giornale. In questo caso si parla di ingiusta detenzione, in apertura, tortura di Stato. Ogni anno in cella mille innocenti. Dal 1992 ad oggi 24 mila casi e sono stati pagati indennizi per 630 milioni. Chiudiamo anche il giornale e spostiamo adesso la nostra attenzione sui quotidiani locali, su Messaggero e Gazzettino. Messaggero Veneto che oggi apre con la notizia che riguarda Giulio Reggeni e in particolare il premio Lucchetta dedicato proprio al giovane ricercatore friulano. Ieri sera a Trieste la consegna dei premi, la registrazione della trasmissione Rai in teatro. Il titolo del Messaggero Veneto è questo, il Friuli Venezia Giulia con Reggeni, vogliamo la verità. Il Lucchetta dedicato al giovane assassinato, l'Egitto protesta per lo stop agli F-16. E vediamo gli articoli, l'articolo a pagina 2 e 3 che ci racconta appunto la serata di ieri. Tante foto con il pubblico e anche i genitori di Giulio Reggeni in prima fila. Giulio e Marco uniti, sacrificio per il dialogo. Alla serata i nostri angeli, i coniugi Reggeni ricordano il figlio cittadino del mondo. La sua morte è diventata un simbolo che unisce. Aiutateci a trovare la verità. Queste le parole della mamma di Giulio che ha salutato il pubblico dal palco del Teatro Rossetti in apertura della serata dedicata appunto al premio Lucchetta. E vediamo nell'attacco dell'articolo proprio le parole di mamma Paola. Giulio è un simbolo che unisce. Vi ringrazio immensamente se ci aiuterete a capire cosa è successo. Queste appunto le parole dei genitori di Giulio. Poi la parte rimanente dell'articolo che racconta appunto la serata di ieri. La consegna dei riconoscimenti nel taglio basso. Vediamo anche alcune foto che ci mostrano Elisabetta Canalis che ha visitato nei giorni scorsi la casa di accoglienza della fondazione Lucchetta Ota d'Angelo Crovatin a Trieste. La Canalis commossa tra i bambini malati ha visitato appunto questa casa come ambasciatrice dell'Unicef. Tornando invece al caso Regeni andiamo di spalla dove troviamo l'articolo con le reazioni dell'Egitto alla decisione dell'Italia di bloccare la fornitura di cambi per gli F-16 egiziani. Stoppa gli F-16 per l'Egitto, l'irritazione di Al-Sisi, reazione del Cairo dopo la mossa del Senato di sospendere la fornitura dei caccia. Incaricato l'ambasciatore di dare un messaggio all'Italia siamo insoddisfatti. Torniamo in prima pagina adesso. Andiamo a vedere qualche altra notizia riportata in prima dal messaggero Veneto. A centro pagina vediamo questa foto che ci arriva da Verona dove ieri c'è stata la manifestazione nazionale di Coldiretti per protestare contro l'embargo dei prodotti verso la Russia. Un embargo che è costato al Friuli, che sta costando al Friuli 56 milioni di euro. E poi ancora andiamo di spalla e vediamo le parole del Presidente della Corte dei Conti nazionale Raffaele Squitieri che nei giorni scorsi ha partecipato a Trieste alla seduta di parificazione del rendiconto regionale da parte della Corte dei Conti. Squitieri ha parlato della specialità del Friuli Venezia Giulia e ha detto modello per tutti. Grazie al corretto uso dell'autonomia il Friuli Venezia Giulia è un modello per tutti. Queste le parole appunto del Presidente nazionale della Corte dei Conti Squitieri. E poi ancora un'altra decisione in questo caso proprio della Corte dei Conti che ha deciso che l'ex consigliere regionale Ciani dovrà rimborsare la regione per 40 mila euro. rimborsi arriva il conto a Ciani che appunto dovrà restituire 40 mila euro alla regione per rimborsi e spese che non sono stati diciamo così avvallati dalla Corte dei Conti. Andiamo di spalla adesso dall'altro lato della prima pagina con questa foto che ci porta a Cividale o meglio a Rubignacco la Ciminiera sarà abbattuta ci dice questo titolo ma parte un appello per mantenere in vita la storica Ciminiera della Fornace di Rubignacco, Ciminiera che tra qualche anno compirà cent'anni chissà se arriverà a questo traguardo. e poi a Muscoli di Cervignano deciso lo stop all'impianto di cremazione, troppa di ossina. Andiamo nel taglio alto adesso, andiamo nel taglio alto dove si parla degli appuntamenti dell'estate friulana, gli appuntamenti e gli eventi dalla Consoli che ha suonato ieri sera in Castello a Udine ad Altan in vacanza con il Messaggero Veneto che parte che appunto da oggi troviamo in edicola con l'inserto Messaggero Veneto estate. Udine si prepara ad ospitare in questi giorni la giornata, il Festival della Conoscenza ma anche la Notte Bianca e nel taglio basso troviamo appunto proprio questo articolo mostre e dibattiti, la ricerca si fa in strada per il Festival appunto della Conoscenza. E ancora per quanto riguarda lo sport si parla di europei, Portogallo in semifinale ieri sera ha battuto la Polonia, domani come sappiamo giocherà l'Italia per il ciclismo, parte il tour, Cimolai cerca il Tris sulla ruota di Parigi. Andiamo nelle pagine interne adesso, andiamo ad approfondire qualche articolo cominciando dall'articolo che apre, il fascicolo dedicato a Udine e provincia. Si parla dei sogni e delle visioni degli studenti della nostra città, la Brexit frena il sogno Erasmus, l'estero resta un'opportunità. I ragazzi alle prese con gli orali credono ancora nell'Unione Europea unita. È la soluzione per il nostro domani, dicono. Critiche all'uscita dell'Inghilterra, l'Europa è un progetto giovane e genera uno scambio culturale. Queste le opinioni dei giovani maturandi udinesi alle prese con l'ultima prova, la prova finale, l'orale di maturità. Voltiamo pagina e andiamo a vedere l'articolo che ci racconta della Notte Bianca, in programma domani sera. Magia della Notte Bianca, musica, cultura e shopping. Si comincia alle 7.30 in Piazza San Giacomo, sulle note dei New Quartet, poi sconti, concerti, balli, teatro e animazione. Gratis i park in struttura. Anche noi seguiremo domani sera la Notte Bianca con una diretta particolare, seguiremo l'inizio della Notte Bianca con una diretta che comincerà subito dopo la fine del nostro Tg, andrà avanti fino alle 20.45 per vivere assieme con collegamenti dalla piazza, dal centro di Udine, queste prime ore della Notte Bianca. Dicevamo dei parcheggi gratis in struttura e a proposito di parcheggi, ricordiamo che oggi scatta il nuovo piano della sosta che prevede degli aumenti del costo della sosta nelle zone blu, prevede anche nuove zone blu. In realtà, siccome ci vorrà qualche giorno per adeguare tutti i parcheggi e tutti i parcometri, l'entrata in vigore effettiva e definitiva del nuovo piano della sosta sarà lunedì, è prevista per lunedì. Intanto c'è un'altra novità che riguarda appunto la sosta a Udine, questi buoni parcheggio che potranno essere acquistati dai commercianti da settembre e regalati, diciamo così, ai clienti per fidelizzarli. Buoni parcheggio da settembre, domani al via sosta con Ecopass, un plafond di biglietti omaggio del valore commerciale di 1000 euro a un prezzo scontato di 700. I nuovi ticket prepagati si potranno inserire nelle casse automatiche dei parcheggi in struttura. E poi, dicevamo anche del Festival della Conoscenza, voltando pagina troviamo appunto l'articolo mostre, dibattiti e eventi, la ricerca scende in strada. Comincia oggi la tre giorni dell'università con numerosi appuntamenti. Dopo l'assaggio di ieri a Palazzo Antonini, conoscenza in festa, oggi e fino a domenica, allieta al fine settimana udinese con le vie della narrazione, dell'innovazione e le botteghe del sapere. Un modo per avvicinare il mondo accademico alla cittadinanza, scendendo in strada a divulgare le ricerche scientifiche e non. E poi ancora, dicevamo, abbiamo visto in prima pagina la notizia dell'abbattimento della ciminiera di Rubignacco, l'articolo nelle pagine interne ci dice destino segnato per la ciminiera, ma parte l'appello. Il 12 luglio è la data fissata per l'abbattimento e abbiamo le parole del sindaco Balloc, che dice obbligato alla tutela della pubblica incolumità. Ma c'è anche chi sostiene che questa ciminiera, se non abbattuta, non crollerebbe mai. Il sismologo Boschi dice salvatela. C'è chi dice che la ciminiera della fornace di Rubignacco non crollerà mai. Lo pensano tanti cividalesi, abituati da sempre al profilo pendente dell'altissimo fumaiolo. E lo sostiene pure un esperto, il professore Enzo Boschi, docente di sismologia all'Università di Bologna. E poi ancora, sempre sulle pagine del Messaggero Veneto, un altro articolo su un fatto di cronaca che ci arriva da Feletto Umberto, dove nel tardo pomeriggio di ieri c'è stato un investimento, un grave investimento, investita da un anno donna in fin di vita. Grave incidente a Feletto Umberto, una donna di 68 anni, è stata urtata da un veicolo mentre stava accudendo i nipotini. E poi vediamo appunto l'immagine della piazza di Feletto Umberto, dove poco distante è avvenuto il grave incidente, ci dice la didascalia. Dal Messaggero Veneto di Udine andiamo adesso sul Messaggero Veneto di Pordenone. In apertura del fascicolo dedicato a Pordenone e provincia troviamo la notizia di un'indagine della Guardia di Finanza di Pordenone che ha toccato i vertici del consorzio di bonifica Cellina Meduna. Ecco il titolo, rimborsopoli spunta alla terza inchiesta. Dopo scontrini e appalti, ipotizzato il danno era reale. Note spese fotocopiate, si facevano rifondere perfino caffè e aperitivi. Andiamo a leggere l'attacco dell'articolo di Ilaria Purassanta. L'aperitivo con il prosecco paga il consorzio di bonifica Cellina Meduna. Il cambio del treno di pneumatici all'auto a carico delle casse consortili. Per la Guardia di Finanza di Pordenone, dalle indagini del nucleo di polizia tributaria, è emerso uno sconcertante quadro di sfruttamento delle risorse economiche del consorzio di bonifica per finalità personali del tutto estrane a quelle istituzionali. Questi i risultati appunto delle indagini del nucleo di polizia tributaria. Chiudiamo anche il messaggero veneto di Pordenone, andiamo sul messaggero veneto di Gorizia. In questo caso in primo piano l'allarme degli artigiani strozzati dalla burocrazia. In calo le aziende, le microimprese in affanno di fronte a documenti e balzelli. Medeot, presidente di Confartigianato Gorizia, dice tempi dei pagamenti incerti e accesso al credito sempre più difficile. Queste le difficoltà con le quali anche gli artigiani di Gorizia devono fare i conti quotidianamente. Andiamo a vedere adesso anche la prima pagina del gazzettino, il gazzettino di Pordenone. Vediamo l'apertura che è dedicata ai temi nazionali con il Via Libera da parte dell'Unione Europea, l'abbiamo già visto anche sugli altri quotidiani, ha uno scudo per difendere le banche, sì, dell'Unione Europea ha un paracadute statale da 150 miliardi, garantirà in caso di necessità gli aumenti di capitale. E poi sul fronte internazionale il gazzettino mette in primo piano questo raid contro i terroristi dell'Isis, uccisi in Iraq, 250 combattenti. Anche sul gazzettino l'inchiesta della Guardia di Finanza sul consorzio di bonifica Cellina Meduna. Viaggi, parrucchiere, borsette, rimborsopoli al consorzio. E poi vediamo di spalla anche la notizia delle dimissioni del presidente della fiera di Pordenone che appunto ha rimesso il proprio mandato. Nel Taglio Basso, spazio alla cronaca con un episodio avvenuto ieri nel Pordenonese, si affrontano per la stessa donna, uno in ospedale, l'altro in cella. Duello con colpi di coltello l'altra sera in città. Ed è proprio questa la notizia che apre il fascicolo che il gazzettino dedica a Pordenone. Ecco il titolo. Coltellate di gelosia, due feriti e un arresto. Violenta discussione fra trentenni, mercoledì pomeriggio in via Cadelle. Sacilese arrestato per lesioni gravi. Al rivale reciso il tendine di una mano. Si sono ritrovati entrambi nell'abitazione della loro innamorata ed è scoppiata la lite. E qua vediamo appunto due immagini di via Cadelle a Pordenone dove è avvenuto questo litigio. E' un'immagine dei carabinieri intervenuti sul posto. I carabinieri che adesso stanno lavorando per cercare di ricostruire esattamente quanto accaduto. Una discussione tra due rivali in amore finita a coltellate. Che cosa sia effettivamente successo? Mercoledì pomeriggio in un'abitazione di via Cadelle a Pordenone saranno le indagini dei carabinieri della compagnia a ricostruirlo. Non ho colpito nessuno, io mi sono soltanto difeso, dice l'uomo che è finito in carcere e che appunto oggi si vedrà convalidato oppure no il fermo. Oggi la procura deciderà sulla convalida. Sempre per quanto riguarda la cronaca sul gazzettino di Pordenone, oggi troviamo un articolo che ritorna su quel quattordicenne che ha perso la vita, ha negato nei giorni scorsi a pravisdomini. Ecco il titolo nel taglio alto della prima pagina del gazzettino. Quattordicenne ha negato, urlava e chiedeva aiuto. E poi ancora le indagini partite dalla rapina lo scorso autunno nella villa della famiglia Polesello a Saci, le indagini che hanno portato al fermo di una banda che era dedita alle rapine in villa in tutta Europa, stava progettando anche dei colpi in Spagna, ha presi gli ultimi due banditti, ci dice appunto il gazzettino. Prima di salutarci andiamo a vedere anche la prima pagina del fascicolo del Friuli. In questo caso troviamo in primo piano gli ultimi dati che ci arrivano dal mondo del lavoro, illustrati ieri dall'assessore regionale Panariti. Un mercato del lavoro in miglioramento, in ripresa nel primo trimestre dell'anno, soprattutto per quanto riguarda l'occupazione femminile. Sorpresa, più donne al lavoro. L'assessore regionale Panariti rilancia la necessità di vigilare sui voucher. Nei primi mesi di quest'anno occupazione a più 1,1%, ma quella rosa arriva a più 1,8%. La disoccupazione è scesa dall'8 al 7,1%, quindi miglioramenti dal mercato del lavoro. Ancora un articolo che troviamo in questa pagina e che ci riferisce degli esiti della visita della Commissione parlamentare di inchiesta sugli illeciti ambientali. Una visita nella nostra regione. La Commissione ha passato sotto la lente di ingrandimento la situazione dello stabilimento ex-caffaro di Torviscosa, ma anche della ferriera di Trieste e da questa visita sono emerse alcune preoccupazioni, scusate per questa zoomata, sono emerse alcune preoccupazioni proprio per la mancanza di risorse per contenere l'inquinamento in laguna gravi rischi senza risorse adeguate, dice la Commissione che ha concluso appunto la sua visita in Regione. Chiudiamo il gazzettino e prima di passare la linea ai colleghi dello sport, torniamo un attimo sul Messaggero Veneto e come di consueto andiamo a vedere la pagina degli spettacoli dove troviamo il box che riassume gli appuntamenti di oggi su Udinese TV, gli appuntamenti principali, c'è un appuntamento sportivo in primo piano alle 12, la conferenza stampa per la presentazione del nuovo direttore sportivo dell'Udinese, Nereo Bonato, conferenza che quindi seguiremo come sempre in diretta alle 12 e poi questa sera l'appuntamento con A Tutto Quiz, una nuova puntata del quiz che regala un viaggio a Ibiza e Formentera, conducono Massimo Campazzo e Fernando Siani con la partecipazione di Giulia Spadaccio. E adesso è il momento di passare la linea proprio ai colleghi dello sport, dunque io mi fermo qui, vi invito però come sempre a rimanere in nostra compagnia.